Dopo la felicità del paradiso vi è quella del purgatorio. Questa affermazione forse può destare un pochettino di preoccupazione o di attenzione negativa perché abbiamo sempre sentito parlare del purgatorio come luogo di tormenta, di sofferenza, di pianto, di fuoco. Invece io ho voluto proprio iniziare questo discorso con questa grande affermazione. C'è la felicità del paradiso e vi è quella del purgatorio. E allora diciamo subito perché le anime del purgatorio sono felici? Perché hanno il privilegio di sapere con certezza che sono destinati alla visione di Dio. Mentre noi che stiamo sulla terra abbiamo il dubbio mi salverò o non mi salverò? Dove andrò dopo la morte? Quale sarà la mia destinazione? Le anime del purgatorio stanno in quel luogo, sono in attesa di partecipare alla grande processione del cielo e vedere Dio così com'è, faccia a faccia, avere, godere della visione di Dio. Generalmente si parla del purgatorio del fuoco. Anche nei nostri annali del convento di San Giovanni Rotondo c'è un episodio di un certo fra Giuseppe e Spagnolo che portando la bisaccia, in questa bisaccia si vedevano le fiamme di fuoco. Segno che era stato molto avaro nel raccogliere l'offerta del pane, del grano, eccetera. Era stato un pochettino avaro. Ma principalmente, io metto l'accento, ma è possibile che portava il fuoco nella bisaccia? Ma di quale fuoco si parla? E qui è necessario mettere una buona volta per sempre che non si parla del fuoco come noi lo intentiamo, che si accende la legna, si usa un po', non so, degli sterpi, eccetera, si fa la fiammata e se non stai attenti ti puoi bruciare, puoi bruciare il vestito, si può bruciare la mano. Qui si parla di un fuoco, quello dell'amore di Dio che purifica l'anima. E questo è un fatto gioioso, non è un fatto negativo. Ecco perché nel purgatorio si sta bene, si sta bene. Dice San Bernardino che le anime del purgatorio non è che hanno intenzione di ritornare sulla terra perché lascerebbero una zona di felicità ridotta rispetto al paradiso ma molto, molto superiore a quella della terra. In purgatorio non ci stanno le vendette, non ci stanno le lotte tra una persona, tra una famiglia, l'altra famiglia. Cioè, quella che è la vita umana, gli interessi, gli improgli, i sotterfuggi, le calugnie, le calugnie, non c'è tutto questo. Il purgatorio è un luogo di preghiera in attesa della visione beatifica di Dio. E in questo luogo di preghiera c'è l'intervento degli angeli, c'è la visita della Madonna, c'è la visita di San Giuseppe e delle altre anime che godono di questa attesa della purificazione. Le nostre azioni, se sono di un'impurità, devono essere messe nel crogiolo per essere purificate. Padre Pio porta la similitudine della luce del sole. Bella il sole, bella la luce del sole, che riscalda, che dà vita. Però fa male agli occhi e quindi ci vogliono delle lenti schermate. Perché? Perché è negativo il sole. No, è l'occhio che ha bisogno di difesa di fronte alla grande luce che emana sulla terra. Allora, qui possiamo vedere, proprio su questo esempio di Padre Pio, l'azione di Dio, l'azione di Cristo con la sua santità, con il suo amore, che purifica la nostra anima. E possiamo immaginare quanto e come avverrà il nostro giudizio dopo la morte. È una morte molto semplice. È l'incontro della persona che è morta, che chiude gli occhi. Appena chiude gli occhi, si incontra con Cristo Redentore. E si guardano negli occhi, gli occhi fiammeggianti del Cristo che purifica l'anima. E quell'anima è salva.